La mia famiglia coltiva questi meletti da oltre un secolo. Mio nonno diceva sempre che ogni frutto che ci regala la terra è prezioso, anche quello è più imperfetto. E io ho portato avanti questa filosofia, riuscendo a trasformare anche la mela meno bella in un'ottima crema. Sì, di bellezza. It's all I ask, changes!